La fase difensiva è un contesto, è un momento di organizzazione collettiva difensiva. L'individualità va sicuramente corretta, oggi abbiamo sbagliato tanto in quell'aspetto lì e sicuramente miglioreremo, però la squadra aveva anche prodotto tanto, non dimentichiamoci che Peruzzi e Monzon sono due giocatori che per caratteristiche prediligono tante volte delle sovrapposizioni, delle superiorità numeriche, attuano delle superiorità numeriche senza palla, quindi possono anche perdere un po' di lucidità, però è chiaro che nell'uno contro uno magari qualcosa di meglio potevamo fare.